Ma sapete cosa state guardando? Questo robot è in grado di valutare il grado di maturazione dei pomodori e raccoglierli in autonomia senza danneggiarli. Ma perché ve ne parliamo? Secondo la FAO, l'impiego dei robot nel settore agricolo è un fattore chiave per rendere la produzione alimentare più efficiente contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Ormai esiste un robot praticamente per tutto e secondo le stime di Research & Markets il settore della robotica agricola sta vivendo una crescita esponenziale che lo porterà ad un fatturato di 30 miliardi di dollari nel 2026. Ciò è possibile grazie allo sviluppo di intelligenze artificiali che consentono di automatizzare processi sempre più complessi. Nonostante i progressi, i robot non possono ancora però raccogliere qualsiasi prodotto perché alcuni, come i frutti rossi, sono troppo delicati e potrebbero essere danneggiati. L'altro limite di questa tecnologia è che non sempre è disponibile per tutti e rischia di aumentare ulteriormente le disuguaglianze sociali fra i grossi player e i piccoli produttori, comunità locali e gruppi emarginati. Come sempre la tecnologia non è giusta o sbagliata sta a noi capire come sfruttarla per il bene di tutti. Ma dopo tutto anche questa è ingegneria.